Allora, oggi io volevo fare una intro, ma ora non più, quindi boh, metti like, iscriviti, fai un po' quello che ti pare, basta che lo fai. Infatti iniziamo subito con il video di oggi perché devo andare al mare, quindi forza! Sì, sì, finalmente, finalmente ragazzi, ho finito la partì... Ma, non c'è nessuno, sono tutti andati via? Sì, è da tre ore ormai! Ah, un goblin! Pronto? Oh, ciao bro, ciao! Oh, no, no, oggi non vengo, ormai mi sono già ritirato, sai, mare, sole, casa sulla spiaggia, ormai non vorrei fare altro che stare qui, davvero. Dai, ci vediamo l'anno prossimo, non ti preoccupare, ok? Ciao, bello, ciao, ciao! Allora, come avere una vita sociale? Gian Piero? Che stai facendo? Niente, prof, niente, sto solo... Dai, forza, dammi quella canna, su! Va bene... Niente, io veramente sono scioccato. Quanto è bello quando finisci la scuola! Aspettate, 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 fermate tutto, fermate tutto, fermate tutto! Allora, devo comunicarvi questo, che non possedendo pistole, fucili d'assalto o qualsiasi arma da fuoco che sia, e non abitando a Napoli, purtroppo non potrò mostrare immagini e video del individuo che stavo appunto per mostrarvi. In compenso però posso darvi un ripeto... Grazie per la visione!